buonasera anzi direi vista allora buonanotte a tutti benvenuti nel canale benvenuti in questo nuovo video ero al lavoro quindi non ho potuto per motivi tecnici fare il video prima potevo farlo verso le 10 10 e mezzo ma ho aspettato di avere notizie più sicure su quello che è successo a jannick sinner quindi eccoci qua ben trovati nel canale benvenuti in questo nuovo video parleremo ovviamente delle due partite sfortunate dei due nostri azzurri a sofia parleremo soprattutto di quello che è successo a sinner e di quello che comporta quello che è successo a sinner quindi sarà un video in due tranche la prima sui risultati la seconda sulle conseguenze dell'infortunio a jannick sinner anche per quanto riguarda la classifica e soprattutto per quanto riguarda i prossimi tornei prima di parlare di tutto questo l'invito è come al solito a iscrivervi al canale ho visto che avete recepito il mio appello continuate a farlo iscrivetevi al canale lasciate like al video attivate la campanella per seguire insieme tutto il mondo del tennis del tennis azzurro allora sofia è stato un sabato doloroso nel senso che da papà siamo passati dall'avere una semi una finale possibile una possibile finale tutta italiana a non solo non avere nessuno dei due in finale ma avere anche uno dei due nuovamente rotto la partita andiamo per ordine parliamo prima della partita di musetti musetti che è mancato dei nei momenti clou nel del match musetti che ha servito molto bene soprattutto nel primo set è arrivato ad avere un vantaggio importante nel time break perché era 5 a 1 con due mini break di vantaggio e quando è contato si è fatto recuperare entrambi mini break perdendo un primo set e a quel punto rendendo complicata la partita praticamente quasi vinto sono cose che che possono capitare nel senso che il ragazzo soprattutto su questa superficie ovviamente deve migliorare e ovviamente queste cose possono ampiamente capitare peccato perché perché la partita era ampiamente alla portata e è mancato nei due momenti topici ovvero nel nel tie break del primo e poi è mancato quando è andato a servire per salvare set e partita e ha preso il break nel nell'unica palla break concessa in non dico in tutto il match si dico in tutto il match nell'unica palla break concessa in tutta la partita il buon il buon svizzero è stato un killer ha fatto il break e ha vinto e ha vinto la partita ripeto una partita che poteva vincere musetti probabilmente avrebbe vinto musetti se avesse sfruttato quel 5 a 1 del tie break una partita che è girata e che purtroppo quando le partite di tennis girano di solito le riaggiusti male e normalmente quello che è successo nel primo set poi lo paghi nel momento clou del secondo sarebbe servito riarrivare al tie break sarebbe servito magari tenere il servizio a zero sarebbe servito un pochina più di cattiveria nei momenti decisivi cosa che a musetti questa volta non avuto io resto della mia idea ho visto comunque nonostante la sconfitta un musetti un musetti nettamente migliorato anche su questa superficie un musetti competitivo non è niente di particolare c'è un centro al mondo quindi è un tenista con cui lorenzo avrebbe dovuto vincere però diciamo che si sta piano piano e lentamente adattando anche a questa superficie anche a queste superfici più veloci e sta iniziando a fare risultati anche su queste superfici più veloci prendiamoci quello che è di buono entrano i 30 quindi salvo catastrofi sarà sicuramente testa di serie nel primo slam dell'anno agli australian open peccato perché l'occasione c'era l'occasione c'era l'occasione c'era ovviamente anche per l'altro nostro italiano impegnato e l'occasione era ancora più grossa per sinner che comunque ha diciamo che non ha affrontato il torneo nella nella miglior forma e questo si sapeva io al fanta tennis non l'avevo messo vincente pensate che avevo messo musetti vincente tra le teste di serie dalla una alla quattro avevo scelto musetti proprio perché temevo che sinner non fosse in forma da qui a doversi ritirare per l'ennesimo infortunio per l'ennesimo colpo di sfortuna ovviamente ce ne corre quello che lascia la mano in bocca della partita di sinner non è tanto la sconfitta non è tanto i 160 punti lasciati per strada in vista delle delle atp finals che possono sicuramente essere i decisivi a questo punto per per la qualificazione eccetto che averli avuti in saccoccia sarebbe stato sicuramente meglio però così è andata ma sinner rischia di saltare intanto sicuramente il 500 di astana e quindi altri punti che se ne vanno in ottica finals e poi il 250 a firenze e sarebbe una catastrofe per la sua non per la sua classifica ma per le sue ambizioni da atp finals è chiaro che speriamo di averlo almeno in campo dal 10 di ottobre non lo avremo perché si è già ritirato da astana non lo avremo le chance ripeto di qualificarsi alle finals erano già basse anche vincendo anche vincendo sofia questo questa sconfitta che comunque è avvenuta con un tennista che che il suolo ha fatto cioè rune non si batte da solo lo devi battere e ripeto sinner si è presentato con dei problemi che aveva già appalesato anche in coppa davis non giocando la prima partita e volendo giocare per forza anche il che anche contro gli svedesi secondo me è una scelta che un pochino lo ha lo ha lo ha condizionato e poi la caduta il brutto infortunio che ripeto lo terrà lontano dai campi da tennis per almeno una settimana per l'appunto precisamente nella settimana del 500 sapete che non giocando il 1000 di shanghai i 500 cominciano essere pesanti per per la qualificazione alle final perché di fatto resta un 1000 solo che parigi per si poi c'è questo 500 500 a tokyo il 500 ha appunto ad astana e poi c'è i due 500 vienna e basilea che però si giocano nella stessa settimana e quindi ne puoi fare uno quindi saltare un 500 sono tutti obbliga per arrivare alle final praticamente ti obbliga a vincere per sì ecco poco di meno poco di più poco di meno se non vincerlo almeno fare finale a berzi e fare finale a berzi con gioco vince con medvedev con al carazzo non sarà sicuramente facile il tabellone non era semplice per sinner avrebbe trovato gioco vici nei quarti di finale probabilmente il destino ci ha tolto un gioco vici sinner che sarebbe stato che sarebbe stato interessante speriamo ripeto che almeno firenze per per tutti per gli italiani che volevano andare a firenze fra l'altro lasciatemi dire con dei prezzi esorbitanti perché il 250 di firenze ha dei prezzi che sono superiori al 500 di di vienna quindi una cosa vergognosa dal punto di vista dei prezzi io volevo andare a firenze stando a siena capite voi che sono 50 chilometri un torneo praticamente sotto casa mi sono spaventato dai prezzi e io sono uno che come sapete sul tennis ci investe perché quattro anni che vado a monte carlo o in progetto di andare a parigi a parigi all'oranga rossa quest'anno il problema è che non voglio pagare un 250 come se fosse un mille o come se fosse un 500 devo pagare un 250 per il valore che ha un 250 e spendere 50 euro per andare a vedere due quarti di finale il il pomeriggio mi sembra una cosa mi sembra una cosa folle però i prezzi sono questi giustamente la richiesta di tendis in italia fortunatamente altissima e quindi molto probabilmente desisterò dall'idea di andare a firenze però mi spiace per chi va a firenze pensando chi chi dovrà andare o chi andrà a firenze pensando di vedere sinner e sarebbe un vero peccato non vederlo ripeto anche in virtù dei prezzi che sono stati fatti e quindi insomma sconfitta per per jannic che la cosa meno grave della giornata la cosa veramente grave è l'infortunio patito sinner che aveva vinto il primo set per sette punti a cinque breccando rune nel nel dodicesimo game poi aveva aveva perso il set subendo il black nel quinto game era andato sotto a dire la verità di un break immediatamente nel terzo set dimostrando anche ripeto quei problemi fisici che si porta dietro da lui dice dall'open degli stati uniti sicuramente almeno dalla coppa davis questo risentimento alla gamba che gli ha impedito almeno così ha detto lui di giocare benissimo contro i vasca ebbene l'ha risentito anche contro alcaraz a questo punto l'augurio ripeto e che bastino e che basti una settimana per provare a rientrare in corsa se non dovesse bastare l'obiettivo di jannic deve essere per sì non tanto firenze non tanto vabbè astana che è già assaltato non tanto napoli a cui potrebbe partecipare tranquillamente se non far firenze chiedendo una wildcard a napoli non venono all'ora di dargliela quindi uno dei due tornei in italia se sinner si sente di farlo li potrebbe anche fare tutti e due io credo che se sinner decide di fare napoli ora non so se è iscritto a guion perché mi sembra che il napoli abbia guion come come dirimpettaio però ecco se se sinner non fosse iscritto a nessuno di questi due tornei come credo se volesse fare napoli e chiede la vuoi carla napoli io credo che gli organizzatori di là del torneo di napoli siano ben contenti di dargli di dargli la wildcard ripeto sarebbe un peccato per chi ha il biglietto di firenze però l'obiettivo di anni che deve essere parigi per si deve essere provare a vincere questo maledetto mille che insomma che nobiliterebbe una stagione sfortunata poi le final se vengono bene altrimenti ci saranno altre occasioni e poi c'è l'ultimo sforzo che la coppa davis ma insomma meglio per pensare al 2023 che pensare a vincere questa formula qua della coppa davis che ti obbliga veramente a giocare alla morte perché tre due singolari un doppio sono vuol dire non poter sbagliare niente in quella settimana sconfitta ripeto passa in secondo piano la sconfitta di sinner adesso bisogna attifare perché gli anni si riesca a recuperare per il 10 di ottobre che soprattutto riesca a recuperare per il finale di stagione per poterlo vedere in forma a bersi perché l'obiettivo è quello è parigi bersi e provare a far bene nel mille e poi vedere e poi preparare anche giocando la coppa davis ma la coppa davis è un diventa a questo punto un trofeo secondario anche preparare la stagione 2023 sperando che con una che il conto con la sfortuna si sia chiuso stasera perché veramente gli anni che è veramente stato molto sfortunato in questo 2022 quindi a babbo natale è vero che è presto per fare la letterina babbo natale ma chiediamo che insomma la sfortuna si allontani dai nostri tennisti perché mi sembra che tra berrettini fra gioco vice fra musetti che ha dovuto saltare parigi insomma di sfortuna ne abbiamo avuta troppa 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 io vi saluto ancora grazie per chi mi ha visto in notturna grazie anche per chi ovviamente mi vedrà domattina ma purtroppo ripeto gli orari di lavoro questo mi permettevano di fare considerando che non è il risultato soprattutto per quanto riguarda sinner importante di oggi peccato per musetti perché poteva essere veramente il suo primo torneo sul veloce ci vediamo domani ovviamente per commentare le finali e per stare insieme per parlare di tennis anche domani poi dal lunedì sarà saranno 2 500 chiaramente mancando sinner manca ovviamente un'attrattiva italiana in quei due in quei due tornei ma li commenteremo lo stesso ancora buonanotte buongiorno perché mi vede di domenica grazie a tutti e a presto